Aggiudicato, venduto al gruppo Affari ed Energia, la prossima proposta come sapete è un affare sicuro, è un bene essenziale per la vita, ha un profitto del 7%, è garantito dallo Stato, senza rischio d'impresa, è un business grande e in espansione, stiamo parlando della gestione dell'acqua, mi aspetto offerte interessanti, signori, l'asta è aperta. Signore, l'acqua non si vende, è di tutti. Il 12 e il 13 giugno, le italiane e gli italiani saranno chiamati a votare per due referendum che vogliono fermare la privatizzazione dell'acqua. Votandosi al primo quesito, denominato modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si cancella la legge Ronchi, che stabilisce che i servizi idrici debbano essere per forza affidati ai privati. I privati sono soprattutto grandi multinazionali, che hanno a cuore solo il profitto, a scapito della qualità dell'acqua e del benessere dei cittadini. In Italia, infatti, tutte le privatizzazioni hanno fatto aumentare le tariffe, crollare gli investimenti e calare l'occupazione del settore. Abrogare questa norma significa fermare la privatizzazione e impedire la definitiva consegna dei servizi idrici e di altri servizi pubblici al mercato. Il 12 e il 13 giugno, vota sì al primo quesito, se vuoi che l'acqua torni ad essere un bene comune. L'acqua è un diritto. L'acqua è di tutti. L'acqua non si vende. Il 12 e il 13 giugno, le italiane e gli italiani saranno chiamati a votare per due referendum che vogliono fermare la privatizzazione dell'acqua. Votandosi al secondo quesito, denominato determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito, si toglie ai privati la possibilità di guadagnare denaro sulla gestione delle risorse idriche. Attualmente le aziende che gestiscono l'acqua in Italia ottengono grandi profitti sulle bollette dei cittadini. Non è giusto arricchirsi con l'acqua, un bene di prima necessità, essenziale per la vita. Con il SIA e referendum, i privati non potranno più speculare sulla gestione dell'acqua. Il 12 e il 13 giugno, vota sì al secondo quesito, se vuoi che l'acqua torni ad essere un bene comune. L'acqua è un diritto. L'acqua è di tutti. L'acqua non si vende.